A Cortona, ai tesori di Ercolano, Valerio Massimo Manfredi apre la mostra al Mike che testimonia il legame antichissimo tra Cortona e Napoli. È importantissima, ci sono pezzi stupendi ed è bello il contatto tra Ercolano e questa città etruschissima nel cuore dell'Italia. Marcello Venuti, uno dei fondatori dell'Accademia Etrusca nel 1738 fu incaricato dal re di Napoli di curare le collezioni farnesiane e di sovraintendere agli scavi di Ercolano. Questa mostra ha un duplice valore, parlare di Ercolano, parlare dei legami tra Toscana e Regno delle Due Sicilie ma soprattutto lanciare un messaggio di grande unità europea rispetto a un valore, quello della classicità che ci tiene tutti insieme. Ora questi reperti e quegli scavi sono in mostra su due fronti, Napoli e Cortona, unite nel segno di 1738 la scoperta di Ercolano, Marcello Venuti, politica e cultura fra Napoli e Cortona. Napoli e Cortona mai sono state così vicine e la storia in definitiva è un intreccio di due cortonesi, Marcello Venuti che è fondatore dell'Accademia Etrusca, nonché archeologo chiamato alla corte di Carlos, in un momento in cui il gran ducato di Toscana dopo i medici per motivi geopolitici doveva finire nel regno dei Borboni, lui ha un'intuizione di dove scavare per trovare Ercolano. Una mostra che sarà aperta fino al prossimo 2 giugno.